Farà parte della frattura ormai evidente di questa maggioranza. La frattura è, secondo l'opposizione in Consiglio Comunale a Tezze sul Brenta, quella che si starebbe o si sarebbe già consumata nelle fila della maggioranza che governa il Paese. Una frattura che diventa evidente, sostiene Maria Rita Innocentina, quando in aula si arriva al voto e si assiste a consiglieri che si astengono, si assentano e che ora si arricchisce dell'assenza del vice sindaco e assessori all'urbanistica. Ha oltre un mese non partecipa alle sedute della Giunta Comunale. L'ultimo Consiglio Comunale è stato giustificato come ammalato, tant'è che il sindaco ha candidamente ammesso di non essere in grado di spiegare un argomento all'ordine del giorno. Di fatto, tuttavia, non risulta che il vice sindaco sia assente dal suo posto di lavoro e non risulta anche che non goda di ottima salute dal momento che in Paese lo si vede tranquillamente girare e colloquiare. Le divisioni nella maggioranza nuocciano a Tezzi e i suoi abitanti. Chi ha vinto le elezioni sostengono le minoranze. Lo ha fatto con un programma ambizioso della cui realizzazione per ora non si sarebbe vista traccia. Dopo oltre un anno e mezzo dal loro insediamento e a sei anni e mezzo di mandato senza soluzione di continuità, non si è ancora visto niente di quello che era stato promesso. La stessa rotonda di stroppari che il sindaco aveva promesso in cantierata per fine anno deve ancora essere messa in gara.